Per Eleonora, ma non sono, chi sto guardando con tutta la mia pelle. Esisto interamente. Esco da me e non torno più in me, esco solo. Questo schermo virtuale bianco tramite dentro noi, apre le strade ai sentimenti, ai bisogni di fusione. Non c'è distinzione tra me e te, non sono sola. Siamo un fuoco bianco, siamo la purezza, siamo schiene vergili, lungo le quali ci osserva un uomo, siamo. La via della solitudine ospita briganti e gondoliere invisibili. Vento, spazzole, immondizia per le strade, scoppe, scusate. I movimenti che si fermano e la danza che inizia nel silenzio. Il silenzio che inizia nella danza. La solitudine non è pura, è umida. La solitudine paura, che implode per implodere. Ogni volta che una donna si mette un anello al dito, qualcuno urla da qualche parte. Nel mondo le dita, con gli anelli, cambiano. Fa caldo nella tua bocca. Qualcuno è seduto ai piedi di una chiesa e sta facendo il pianto della sua vita. Sii arte per te stesso. Applausi Grazie. 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 Grazie.